E' già al lavoro per rilanciare l'immagine di Napoli nel mondo, il team di imprese che si è aggiudicato la gara indetta dal Comune per gestire eventi, spettacoli e comunicazione per le regate dell'America's Cup, che si terranno in città dal 7 al 15 aprile prossimo. Jumbo Grandi Eventi è la società capofila dell'Associazione di Imprese, costituita con Key Events e Infront, che porta in campo l'esperienza già collaudata in passato nella progettazione di manifestazioni sportive di caratura mondiale, come le Olimpiadi di Torino e la Coppa America a Valencia. Da oggi i progettisti saranno a Napoli in pianta stabile per tutte le operazioni preliminari all'allestimento in villa comunale del villaggio Eventi. E se gli organizzatori promettono di consegnare alla storia una tappa indimenticabile della Coppa America, è tutta la città ad essere in fermento per ritrovare in questa occasione un ruolo da protagonista. Ci sarà una produzione tutta con l'America's Cup, delle ancore, dei gadget in stile marinaro da dare a tutti i nostri clienti o alle persone che ci verranno a trovare qui a Napoli. Speriamo che l'economia si possa riprendere, che il commercio si possa riprendere e che Napoli possa rivivere ancora una volta quei buoni momenti che noi abbiamo vissuto quando c'è stato il famoso G7 a Napoli, che insomma, devo dire, tutti quanti abbiamo apprezzato finalmente una città diversa.